Federico Lucia Non sarà resa pubblica, ma dai social emergono alcune star che di sicuro presenzieranno alla cerimonia. Ad esempio Bebe Vio, che ha mostrato su Instagram la simpatica partecipazione pop-up ideata dalla coppia, oppure Ilari Blasi e Francesco Totti, che avevano chiesto di essere invitati all'evento, e sono stati accontentati tramite una story. Non ci sarà, come ormai è purato, Fabio Rovazzi. Il cantante di Andiamo a Comandare, ha rotto definitivamente con Federico e Chiara. Forse, invece, troverà spazio in lunga. Axe. L'autore di Italiana, insieme a Fedez, potrebbe prendere parte al matrimonio dell'anno anche se i rapporti non sono più idiliaci. E ancora, tra gli invitati da Fedez e Chiara ci sono anche Paris Hilton, Manuel Mameli, la Dark Polo Gang, Manuel Agnelli. Punto intanto, Fedez ha lasciato la famiglia a Ibiza. Chiara e Leone si divertono con gli amici a largo delle isole Baleari. Federico, invece, pensa al lavoro. Nella serata di ieri, infatti, il rapper ha suonato in quel bel billionaire di Porto Cervo, locale di Flavio Briatore. West star della serata, come testimoniato dalle storie su Instagram, il figlio dell'imprenditore ed Elisabetta Gregoraci. Nathan Falco. Il piccolo si è divertito al fianco di Federico a suon di passi di Breach Dance. Flavio, su Instagram, ha commentato la serata con grande euforia. Falco a cena con Fedez, molto felice. Grande artista e grande uomo. Punto presente alla serata del Bionaire di Porto Cervo anche un vecchio volto di uomini e donne. Si tratta di Giulia Dell'Elis. Durante la nottata come testimoniato dalle storie su Instagram l'ex fidanzata di Andrea Damante è rimasta particolarmente colpita dal figlio di Flavio Briatore, Nathan Falco, presente alla console e assieme al VIP del momento, Fedez. Il rapper, dopo essere stato a cena al tavolo di Briatore, si è reso protagonista di un mini-DJ set. E Giulia è rimasta sorprendentemente colpita da Nathan. Giocata, punto esclamativo, virgolette, punto L.A. Dell'Elis, recentemente paparazzata con un topless da capogiro, ha svelato su Instagram i segreti del suo fisico perfetto. Tonico e asciutto. In tanti le hanno chiesto, dove si annivi il segreto della sua forma fisica impeccabile. La Dell'Elis, come al solito assai generosa nei confronti del suo pubblico, ha così deciso di pubblicare per filo, e per segno il regime alimentare che segue. Nessuna dieta particolare, ma semplicemente cibo sano e ovviamente qualche momento di schifo, per dirla con le sue parole. Infatti non si fa mancare nulla nei 5 ebrea quotidiani. . . .